Sono Aronne Ruffini, agronomo, responsabile dell'Ufficio Ambiente Agroforestale del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale. Mi occupo all'interno del Consorzio della salvaguardia ambientale e dell'incremento della biodiversità e la conservazione degli abita all'interno del comprensorio. In particolare, per quanto riguarda l'Ufficio Tecnico, collaboriamo nella stesura di progetti a basso impatto ambientale. Per quanto riguarda le risorse idriche, realizziamo durante l'anno sfalci, prevedendo interventi di conservazione di quello che è l'abitat naturale di anfibi, piccoli mammiferi e avifauna, applicando quello che è il disciplinare della Regione Emilia Romagna. Per quanto riguarda l'uso di riguo delle acque, anche qui andiamo a monitorare gli aspetti chimici, biologici e fisici durante la stagione rigua su 20 punti di prelievo all'interno dei canali stessi.